Sono andato a ritirare i soldi della vincita della bolletta che io e il maresciallo ci giochiamo assieme ogni volta eppure tutte le volte che ci spartiamo sti soldi al 50% io tengo l'impressione che mi fa fesso, sarà impressione Quagliarulla non è così, la matematica è mica un'opinione e lo so che non è un'opinione vedi che ti sta sbagliando probabilmente Quagliarulla uè comandi maresciallo Quagliarulla sei andato a ritirare la vincita? Eccoli qua, 200 euro tutte per noi Dividiamo Dividiamo, dividiamo come sempre Al 50% Con la massima onestà, al 50% Quanto so? Quanto ha soldo so? 200 euro 150 a me e 50 a te Sei rimasto contento? Assato